Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di proviamo cose nuove plus sicuramente alcuni di voi vi starete chiedendo ma le lattine, tutte queste lattine che stai prendendo, tutte queste snack che stai prendendo, ma dove le stai mettendo, dove le tieni ed è giusto che vi faccio vedere in questo video dove tengo tutto quanto c'è un casino, c'è un casino però è tutto in qualche modo organizzato così che vi possa anche muovere in casa chiarisco che potete vedere un po' di casino più che altro perché devo ancora passare l'aspirapolvere, pulire diciamo un po' la casa per modi anche lavori sia di mattina, a volte di pomeriggio in certi giornali che non lavoro magari la mattina posso magari occuparmi di passare l'aspirapolvere e altro vedete un po' di casino, ma ripeto e vedete tutto diciamo un po' organizzato ok diciamo che devo iniziare dal frigorifero infatti qui devo fare da una pulita qui tengo chiaramente le prossime lattine che devo chiaramente prepararvi per gennaio in poi queste di qua diciamo che devo farle per dopo il 20 gennaio anche se potrebbero uscire dopo a febbraio perché forse porto più snack che bibite in quel periodo poi ci spostiamo nel corridoio a parte che qua comunque devo tagliare anche una pulita dove ci metto le lattine lì poi ci spostiamo praticamente nel corridoio e qui tengo tutte le prossime lattine e bottiglie ora sì, vedete tipo qualche lattezza o qualche cosa più che altro qui poi non metterò più le lattine per le prossime lattine nel senso che queste di qua dopo che le avrò finite tutte qua metterò centralmente questa perché questa la sto tenendo per collezione e qua metterò esposte solamente le lattine vuote più particolari come per esempio che so le lattine quelle riguardanti dell'MD comunque quelle che non ho rare e dopodiché ci spostiamo ci spostiamo in cucina e praticamente dietro sto sportello tengo tutto quanto il resto qui ci sono tutto selezionato qua nella parte più non metto a fuoco nella parte più a destra tengo chiaramente cereali e biscotti per i prossimi video poi qua praticamente anche se c'è un po' di spazio per qualcosa qua metto diciamo le prossime lattine che queste sono le successive a quelle che avete visto in corridoio queste sono messe in ordine per esempio qua ci sono due coca cola che mancano comunque forse anche altre le taglie quelle più piccole qua c'è solamente una mossa ma poi come finiranno quelle finiranno queste metterò un'altra fila poi qua in questo angolino metterò diciamo le lattine più particolari o le bottiglie principalmente anche qui tengo qualcosa anche se ripeto solo due cose sempre per i prossimi video e adesso ci dobbiamo spostare infine nella stanza letto dei miei che diciamo che quella è proprio utilizzata come magazzino ok eccoci qua adesso vedete un po' di casino qua è come un magazzino principalmente tutto selezionato e organizzato qui abbiamo tutti chiaramente gli cioccolatini non mettere di nuovo a fuoco quindi tipo i mochi tutti i dolciumi poi qua questa di qua ho fatto proprio le scritte selezionate infatti se mettesse a fuoco patatine piccanti patatine normali poi le chazze e così via qui ci sono tutte le patatine piccanti patatine tipo fuori serie che non c'entrano diciamo con le categorie che si è selezionato per ora qui abbiamo tutta la categoria dedicata alle chitos qui tutta qua dedicata chiaramente poi alle chazze qua vabbè vedete che c'ho la collezione delle lattine delle monster qui ci sono messe per la collezione le taghe delle mostri che poi comunque vi farò vedere in futuro sono chiaramente quelle che vedete lì sono tutte quelle vuote poi vabbè faccio libri anche di Harry Potter ma se volete vedere la mia collezione poi chissà fatemi sapere nei commenti faccio vedere anche i libri dopodiché vi mostro che ho da questa qua dentro ci tengo tutte le monster piene quindi queste sono tutte le monster future con i fogliettini di tutte le nazionalità selezionate qui ci sono anche 4 Red Bull ma c'è il rischio che se continuano ad arrivare chiaramente monster queste si sposteranno in un'altra scatola perché questa mi sembra che si riempirà totalmente di monster di questo passo poi qui dentro ci tengo le lattine più piccole sono solamente Fanta e le Ocean Bomb queste stesse sono le Ocean Bomb e quelle tre sono le Fanta dopodiché ci spostiamo questa di qua dovrebbe essere vuota infatti quella è in più peraltro chi sa ha altre lattine qua questa è abbastanza vuota qua ci sono tutte le Prime le Rockstar che sono solamente due e le Lemon Soda che vi ho già presentato nelle scorse settimane infine qui ci tengo le lattine sempre come dicevo particolari come erano messe là le bottiglie e tutti i barattoli delle Pringles infine ci spostiamo da questa parte messe da quest'altro angolo invece ci ho messo tutti i Lo Hacker tutti i Lo Hacker tutti i pochi selezionati e tutti chiaramente gli Oreo probabilmente farò anche un'altra piccola linea in questo punto dove ci metterò praticamente la categoria dei Kinder però Kinder diciamo prima che comincia a comprare dopo finire di comprare tutti i Lo Hacker quindi dopo che avrò finito con i Lo Hacker una settimana poi passerò ai Kinder e questa è tutta l'organizzazione che c'è praticamente di tutte le cose che devo portare qui ci sono cose per mesi e mesi fino penso fino a giugno luglio qua ci sarà tanta tanta di quella roba se questo video vi è piaciuto vi lascia un mi piace noi ci vediamo alla prossima ciao